Ciao, siamo alla fine della passeggiata della fioritura di Castelluccio, com'è andata questa passeggiata? Benissimo, è stata una bella esperienza, avevamo bisogno di rilassarsi e qui abbiamo trovato veramente un posto magico. Da dove venite? Roma, abbiamo conosciuto tramite internet la possibilità di questa passeggiata, abbiamo conosciuto tante belle persone, siamo stati veramente bene, è una fioritura bellissima, erano tanti anni che pensavamo di venire e questa è stata l'ora. Quindi non avete mai visto la fioritura di Castelluccio? Ok, a chi consigliate di vederla? C'è un target specifico? No, abbiamo visto che anche dei bambini possono fare questa passeggiata e quindi... Poi merita di guardare i propri occhi, questa natura così bella, così colorata, merita proprio, venite qua. Grazie. 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 Grazie.